Rivede finalmente la luce la convenzione per la gestione della riserva di Monte Bonifato ad Alcamo. L'atto, dopo essere stato presentato una prima volta e ritirato subito dopo dal commissario straordinario del comune Giovanni Arnone nel novembre scorso, approda nuovamente in consiglio comunale. Sarà discusso mercoledì 13 aprile come da convocazione stabilita dal presidente Giuseppe Cibilia. Ora la palla passa nuovamente al civico consesso che avrà l'ultima e definitiva parola attorno a questo provvedimento molto atteso e per certi versi contestato e che vedrebbe insieme per la prima volta nella gestione comune di Alcamo, ex provincia regionale di Trapani, regione forestale. Una necessità avanzata in seguito a tantissimi eventi di cronaca che si sono susseguiti proprio sul Monte Bonifato e sui 100 ettari di riserva, colpita anche pesantemente da più incendi di natura dolosa e da una complessiva situazione di degrado e abbandono. Fattore quest'ultimo legato al fatto che comune ed ex provincia non avrebbero uomini e mezzi donei per garantire un'efficiente gestione dell'aria. Le conseguenze sono state quelle sotto gli occhi di tutti. Per anni i sentieri sono rimasti chiusi al transito pedonale perché non manutentati e quindi non messi in sicurezza e solo ultimamente la situazione si è in parte sbloccata per effetto di un'ordinanza del commissario Ornone. La convenzione permetterebbe alla forestale di intervenire finalmente e di poter garantire con propri uomini e mezzi gli interventi necessari. Di fatto questo provvedimento è bloccato da oltre un anno. Era stato l'allora sindaco Sebastiano Bonventra ad avere approvato uno schema di convenzione e poi arrivarono le sue dimissioni a giugno del 2015 e tutto si arrenò. Si è successivamente insediato l'attuale commissario che a novembre portò la convenzione in consiglio per il via libera definitivo. Diversi consiglieri però sollevarono numerose eccezioni facendo notare che vi erano nel testo molteplici incongruenze da chiarire e che avrebbero potuto portare conflitti futuri nella gestione. Da lì la decisione del commissario di ritirare l'atto per farlo esaminare dagli uffici competenti. Sulla vicenda intervenne l'associazione Salviamo il Bonifato che da anni opera con propri volontari per la tutela di questa riserva che sta lentamente rischiando di cadere nel più assoluto degrado che sollecitò un'immediata risoluzione della vicenda per far valorizzare una riserva quasi dimenticata. In questi anni l'assenza di interventi di manutenzione lungo tutta la riserva ha portato a problemi di non poco conto. In primis quello della chiusura dei sentieri la cui mancata messa in sicurezza ha comportato per l'appunto il divieto di transitabilità che vige da anni. Grazie. Grazie.